Il mondo a fretta continua a cambiare Chi vuole restare a galla si deve aggiornare Anche la chiesa che sembra non si muova Ogni tanto ci ripensa e ne inventa una nuova E dimostrando un notevole tempismo Ha già tirato fuori un nuovo catechismo Dove tutto è più aggiornato, dove tutto è più moderno E anche a vincere un appalto si rischia l'inferno Un dove è conannata ogni forma di magia Ma è un grave peccato anche l'astrologia Un dove il senso di giustizia è ancora più forte E talvolta è anche gradita la pena di morte E la chiesa si rinnova per la nuova società E la chiesa si rinnova per salvare l'umanità In questo clima di sgomento E adesso se divorzi ti puoi anche risposare A fatto che stai buono e non ti metti a scopare Ma il nuovo sacramento Ma il nuovo sacramento per essere senza macchia Va fatto di nascosto e in un'altra parrocchia E la chiesa si rinnova per salvare l'umanità Da oggi il praticante ha un'altra prospettiva Più allegra e disinvolta direi quasi alternativa La pillola per ora non può essere accettata Ma è ammessa se prevedi di essere violentata E piuttosto che fare uso dei preservativi È meglio diventare tutti sieropositivi E van bene i militari E van bene i dottori Adesso abbiamo anche i farmacisti obiettori D'altronde per la chiesa Ideale l'astinenza Che è un po' come un invito All'autosufficienza E la chiesa si rinnova per salvare l'umanità Da Roma il Santo Padre ci invia il suo messaggio È lì ogni domenica A parte quando è in viaggio Lui voleva andare in Bosnia L'aveva strannunciato Ma all'ultimo momento C'è un po' ripensato Perché l'uomo è sante Pio Ma è anche molto scaltro Lui lo sa che è morto un papa Se ne fa subito un altro E allora ha scritto un libro Che è diventato un grosso evento Sarà anche un po' acciaccato Ma non sta fermo un momento Per il suo decisionismo Si può dire senza affesa Che Papa Voitila È il Berlusconi della chiesa Una chiesa sempre allerta Che combatte e fa scintille E per questo è giusto darle Un belotto per miglia Anche se i tratti ciloschi Della Santa Sede Sono parte integrante Dei misteri della fede Per la nuova società Per la nuova società Per la nuova società Per salvare l'umanità Per la nuova società 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 Grazie.